...con la gamba sinistra, quindi uno, due. Quella dietro, flip rigirata, però fermo. Flip. Poi tutte e due, sia quella davanti che quella dietro, salvo, fanno una mezza figura, e l'altra stessa. No, solo questa. La davanti fa solo la mezza figura. Ah, ecco. Hai già trovato l'ancio. Quindi, pronta? Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro, quattro, quattro. Uno, due, tre, quattro, quattro. Due, la 100, due. Due, la 100, due. Vado a vedere qui, per far vedere di me. Per quanto riguarda qui, cinque, 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 cinque e otto. Quattro, non dava, ne ho lasciato il diritto. Approvato, ok? Ah, e poi. Gli altri, da lì. Ah, un altro, non so ne so. È una macchina. Eh, scelta. Eh, scelta. Eh, recuperate. Non so ne so ne so ne so. Grazie. 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 Così. Ecco. Fate così. Ok. Grazie. 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 1 2 3 4 2 2 2 6 1 2 3 4 5 6 da qua via e figura 8 e e e e e e e Grazie a tutti.